Musica Benvenuti nell'atelier d'arte sonora a terre d'aria. Oggi costruiremo uno strumento musicale da fare con i bambini, da realizzare con i bambini, molto semplice e di grande effetto e di divertimento, che si chiama il sax balloon. Questo è un modello grande di sax balloon. Per fare questo strumento musicale ci serve un tubo di cartone, un cartone molto spesso, non l'interno dello scottex né tubi di carta igienica, ma un tubo spesso come ad esempio quello su cui sono avvolte stoffe o carta. Lo tagliamo di una dimensione che ci piace, che ci va bene. Poi con un pezzettino di carta vetra puliamo e togliamo i battettini di cartone che vengono fuori con il taglio. Prendiamo un palloncino abbastanza grande e abbastanza robusto, lo pieghiamo a metà nella parte della pancina e lo tagliamo. Una volta tagliato, lo allarghiamo e lo infiliamo sopra una estremità del tubo di cartone. A questo punto, usando del nastro isolante, quello anche che usano gli elettricisti, andiamo a fissare il palloncino sul cartone. All'imboccatura del palloncino, invece, metteremo dentro un pezzettino di tubo in plastica, tipo i tubi da giardinaggio per annaffiare, ne tagliamo un pezzettino e lo inseriamo dentro l'imboccatura del palloncino. Per fissarlo, usiamo il nostro nastro isolante. Facciamo aderire bene il nastro isolante sia al palloncino che al pezzettino di tubo di gomma. Ecco il sax balloon decorato. A questo punto non resta altro che suonarlo. A questo punto non resta altro che suonarlo. raccoglielmo... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti